Ha tentato di darsi fuoco davanti al municipio di Piazza Monumento a Modica. Si tratta del 58enne Aristide Poi Domani, noto closciarre, figlio del famoso scrittore Raffaele. L'uomo da alcuni mesi svolge il compito di guida e traduttore per i turisti che visitano la chiesa di San Pietro. Dato che da un po' di mesi la regione non paga né lui né i suoi colleghi, poi domani per protesta ha deciso, prima di incatenarsi davanti al municipio, poi di cospargersi di benzina e di darsi fuoco. La vicenda avrebbe potuto avere un epilogo tragico, ma fortunatamente qualcuno dei passanti è riuscito a fermarlo in tempo, anche se si è procurato una lieve ustione al braccio.